Arresto convalidato per i due protagonisti del pomeriggio di violenza scatenata in via Attilio Frosini a Pistoia. Il Tribunale ha disposto per il 26enne e 37enne, entrambi originali del Marocco e non in regola con le norme di soggiorno, la misura cautelare degli arresti in carcere dopo i fermi effettuati dalla Polizia per dei reati di violenza e resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. La Polizia era intervenuta in via Frosini alle 18 circa di venerdì all'incrocio con via Vittorio Veneto, pochi passi dalla stazione ferroviaria dopo l'allarme lanciato su due individui che in una lite danneggiavano auto in sosta e si tiravano vetri e bottiglie. Sul posto era stato subito individuato e bloccato uno dei due, in evidente stato di ebrezza che stava inveendo contro numerose persone che assistevano alla scena. Con un'altra pattuglia della Polizia fatta sopraggiungere veniva quindi bloccato anche il secondo scalmanato. Da quanto ricostruito dalla questura i due ubriachi, per futili motivi si erano accaniti contro auto in sosta per poi danneggiare anche un veicolo che transitava con a bordo un anziano di 70 anni, prima spondando un finestrino alla portiera anteriore della sua auto, quindi colpendolo ripetutamente. In aiuto dell'anziano era intervenuto un passante di 50 anni, anche lui aggredito, con un cartello di segna elettrica stradale provvisoria che si trovava sul posto. I due, prima di essere bloccati dagli agenti, avevano anche lanciato diverse bici in esposizione nel negozio panconi di ciclismo contro una vettura in sosta. Bilancio del tutto, oltre ai danni, anche le cure mediche e qui sono dovuti ricorrere due malcapitati aggrediti e due agenti di polizia.